E farà certamente molto bene a tante, tantissime bambine. Frozen 2 arriva nelle sale italiane, attesissimo il seguito di Elsa e Anna, due sorelle coraggiose e molto molto amate. Elsa esci da lì! Non puoi seguirmi nel fuoco! Allora tu non buttarti nel fuoco! Elsa e Anna! Il campione di incassi del 2013. Nell'edizione italiana Serena Rossi, Serena Autieri ed Enrico Brignano danno nuovamente voce ad Anna Elsa e al pupazzo di Neve Olaf, mentre Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro, interpreta nell'ignoto una delle nuove canzoni del film. In questo ultimo film, le avventure di Arendelle, ci sono sette capolavori. Questa situazione di pericolo mortale diventerà la normalità? In Frozen 2, diretto da Jennifer Lee e Chris Buck, Elsa e Anna sono due giovani donne che si battono per salvare il loro popolo, lontane da Biancaneve e la Bella Addormentata, in attesa perenne del Principe Azzurro. In questo film riflettono l'evoluzione femminista delle principesse Disney, espressa già in successi come La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Oceania. Frozen 2 racconta il legame tra due sorelle che costruiscono insieme un futuro migliore d'incontro tra popoli diversi, facendo un passo alla volta, come dice una delle canzoni. Il futuro è donna. Anna ed Elsa sono due principesse che non vengono salvate dal Principe Azzurro. C'è l'amore che salva Elsa e l'amore della sorella. Io credo in te Elsa, più che in chiunque altro al mondo.